eccola qui si vede la bandiera palestinese e la bandiera della coalizione internazionale della freedom flottilla e amal 2 sta arrivando a messina l'emozione è tantissima questa è la seconda barca amal 2 che si aggiunge a zaituna la speranza e il desiderio di pace e il deliberazione per la striscia di gas grazie